Pink, it's my new obsession Pink, it's not even a question Pink, on the lips of your lover Nella partita più importante dell'anno contro Milano Fiat Torino al termine del mese per la ricerca contro il cancro femminile l'iniziativa Life is Pink si vuole che il palazzetto si tinga di rosa e grazie alla partnership con la Fiat che donerà ai nostri tifosi una maglietta celebrativa tutta rosa con il grande cuore dell'iniziativa Valmora è il nostro game partner che tingerà di rosa le lunette del campo ma soprattutto i giocatori giocheranno con una maglia celebrativa rosa anche quella che diventerà la mirabilia per altre iniziative che verranno svolte dalla Fiat Torino nel corso del mese di dicembre fino al Natale e fino all'Epifania Nasce dalla volontà della Fiat Torino di sposare un'iniziativa importante che è quella della Fondazione per la ricerca contro il cancro un'eccellenza piemontese che è diventata un'eccellenza nazionale tutti noi purtroppo, le nostre famiglie, incontrano spesso questa brutta malattia e ci sembrava il giusto modo per mettere al servizio uno sport lo sport dove il fisico, dove il benessere, dove la salute sono l'elemento importante al servizio di una causa altrettanto importante che è la ricerca contro il cancro Life is Pink perché in questo caso sono i tumori delle donne alle quali noi facciamo riferimento perché i tumori delle donne sono dei tumori molto importanti e di conseguenza si fa una campagna per soprattutto sensibilizzare le donne a farsi soprattutto la prevenzione perché è la cosa importante Io spero che queste giornate di sport non ci siano solo domenica ma si protragano nel tempo per aiutare la ricerca È importantissimo che lo sport sia vicino alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro ma il basket è uno di quegli sport che credo che invoglia proprio a far sì che la gente sia insieme e per essere insieme oltretutto non solo per divertimento e per sport ma anche per fare del bene Grazie